Anche in Val Vibrata si sono delineati in maniera definitiva gli schieramenti nei 5 comuni chiamati al voto per le amministrative del 26 maggio. A contendersi il ruolo istituzionale ricoperto per 10 anni da Rando Angelini a Sant'Egidio alla Vibrata saranno in 4. Sirio Talvacchia, lista civica di centrodestra, Elicio Romandini, contenitore civico allargato però al centrosinistra, Roberto Monardi di Casa Pound e Fabrizio Filipponi del Popolo della Famiglia. Non sono mancate le sorprese nelle singole candidature con due esponenti del Movimento 5 Stelle che sono presenti nella lista di Talvacchia e un consigliere uscente di maggioranza candidato invece in quella di Romandini. Sfida tutta al femminile nella competizione elettorale a Torrano Nuovo. Da una parte Anna Ciamariconi, docente universitaria che guida la lista Bella Torrano Nuovo, contenitore civico sostenuto dal centrosinistra. A sorpresa, nella lista di centrosinistra nella carica di consigliere è presente anche Dino Pepe che parla di candidatura di rispetto e gratitudine verso la propria comunità. La sorpresa dell'ultima ora è rappresentata invece dall'investitura di Piera Ruffini alla guida di un impegno in comune, schieramento civico sostenuto anche dal centrodestra. Sono due i candidati sindaco e dunque anche le liste in corsa per elezioni amministrative a Sant'Omero. Sant'Omero che vogliamo, la coalizione impernata intorno alla figura del sindaco Andrea Luzzi, lista civica di centrosinistra. E dopo una lunga gestazione ha trovato alla luce anche la lista Sant'Omero Futura, guidata dal candidato sindaco Giorgio Di Sabatino, che negli ultimi cinque anni è stato seduto sui banchi dell'opposizione. Contro ogni previsione della vigilia saranno invece tre le liste che si contenderanno la successione ad Umberto D'Annuntis a Corropoli. D'Antino Vallese, attuale sindaco facente funzioni, sarà la guida della lista Corropoli Cresce, che rappresenta in modo netto una linea continua con l'amministrazione alla guida del paese negli ultimi dieci anni. Il centrosinistra ha scelto invece Franco Falò, candidato sindaco della lista Corropoli 3.0, in cui provano a riaffacciarsi sulla scena alcuni ex amministratori. Mario Anastasi guiderà la lista Corropoli Viva, altra formazione civica ma dichiara ispirazione di destra, dando vita dunque ad una competizione a tre che forse nessuno si aspettava. Ad Ancarano, nonostante nelle ultime ore si era mosso qualcosa per dare vita a una lista alternativa, ci sarà solo uno schieramento. Il centrosinistra, infatti, ha preferito rinunciare alla corsa elettorale. La civica Ancaria, guidata dal sindaco uscente Pietrangelo Panichi, rappresenta la continuità nel progetto avviato oltre due decenni fa. Le elezioni ad Ancarano saranno dunque valide se si recheranno al voto il 50% più 1 degli aventi diritto.